Quanto sto per dire oggi chiarisce un fatto, il fatto che la filosofia non è qualcosa che riguarda tutti. La filosofia, fare filosofia, riguarda soltanto alcuni. Quello che sto per dire oggi è importante perché chiarisce il percorso che riguarda la filosofia di Alain Badié ed il fatto che, se non completamente, io condivido le idee generali espresse dal pensiero di Alain Badié. Quindi questo video inizierà con il sintetizzare i gardini di ciò che concerne il discorso dei Badié riguardo all'inesistenza del tutto, riguardo a ciò che significa inaccessibilità alla cardinalità del mondo da una disposizione nel mondo. Cercherò di specificare meglio quello che ora state ascoltando. Dopodiché ci sarà una terza parte in questo video che più che altro sarà uno schema di ciò che questi risultati comportano. Quindi nella terza parte del video introdurrò alcuni termini che per ora non potrò, il cui significato non potrò rendere del tutto esaustivo. Per me rendere esaustivo un significato significa mettermi nella condizione di formalizzare i termini che indicano quel significato. Ormai questo credo che si sia capito da come svolgo i miei video. Però appunto tutto questo serve ad aprire il discorso e a far vedere a chi ascolta per così dire una mappa del percorso. Ma cominciamo con una dimostrazione dell'inesistenza del mondo, formalizzata. Naturalmente partiamo dalla teoria degli insiemi ingenua, quella naïve. Rivediamo sotto dei termini semplificati che cosa significa inesistenza del tutto. Quindi dal punto di vista della teoria degli insiemi naïve, abbiamo che il tutto è l'insieme di tutti gli insiemi. Quindi se il tutto è l'insieme di tutti gli insiemi, questo tutto deve contenere anche se stesso come elemento. Quindi nella composizione propria il tutto conta se stesso. Se il tutto non contasse se stesso nella propria stessa composizione, allora non sarebbe il tutto. Quindi il tutto affinché sia il tutto deve contare se stesso nella propria composizione. Questo formalizzato significa che significa che se esiste il tutto che abbiamo indicato con t, allora il tutto appartiene al tutto. Noi ora definiamo con R l'insieme. Questo è un R corsivo maiuscolo che indica l'insieme. Questo è un R a stampatello maiuscolo che indica quell'insieme che appartiene al tutto, gli insiemi che appartengono al tutto, tali che essi appartengano a se stessi. Ora, quindi, quest'insieme esiste? Sì, perché per esigenza di definizione del tutto dobbiamo ritenere che il tutto appartiene al tutto. Quindi almeno un insieme R esiste, perché almeno c'è il caso in cui quest'R qui è uguale esattamente al tutto. E se il tutto è il tutto e contiene, e naturalmente per questo deve contenere se stesso, quest'insieme di insiemi che appartengono a se stessi deve esistere. Ce n'è almeno uno. La consistenza di quest'R è quindi data dalla consistenza dell'esistenza del tutto. Dopodiché andiamo a considerare l'insieme invece di quelle C, di quegli insiemi che anche essi appartengono al tutto, tali che queste C, vedi, qui c'è una negazione, questi C, questi insiemi C, non appartengono a se stessi. Bene, ce n'è di questi insiemi? Certo. L'insieme delle serie non è una serie. Quindi l'insieme delle serie non è una serie e quindi l'insieme delle serie non appartiene a se stesso. Quindi la consistenza di questi R, di questo R, è data dalla consistenza del tutto. La consistenza di C è data dalle nostre semplici riflessioni sul fatto che esistono insiemi di questo tipo che appartengono al tutto, ma che non appartengono a se stessi e ce n'è a bizzeffe. L'insieme delle serie, delle ranci e così via. Ora, noi andiamo a vedere se l'insieme di C, quindi quest'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi, appartengono a se... Quest'insieme C, l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi, appartenga a se stesso o meno. Ok? Allora, supponiamo che C appartenga a C. Se C appartiene a C, allora per definizione stessa di C non deve appartenere a C. Prima contraddizione. Allora uno dice, boh, allora C non appartiene a C. E allora andiamo alla seconda condizione. C non appartiene a C, ma sempre per definizione di C, se C non appartiene a C, allora C deve appartenere a C. La conclusione è che andiamo ad avere una contraddizione. Come la si risolve questa contraddizione? Da questo punto di vista la si risolve dicendo tutto è iniziato dal fatto che abbiamo supposto che esiste il tutto. da cui segue tutto il resto. Quindi, cosa dobbiamo concludere? Dobbiamo concludere che il tutto non esiste. quindi ci ritroviamo anche nella teoria degli insiemi un risultato del tutto analogo a quello che abbiamo visto nella mereologia nel senso che il tutto non è... lì l'avevamo espresso dicendo il tutto non è un oggetto. ma... eppure noi parliamo del tutto. Ma come riusciamo a parlare del tutto? E che cosa intendiamo per tutto? Mantenendoci sempre all'interno della teoria degli insiemi cerchiamo ora di andare a vedere qual è il rapporto tra le cardinalità di un insieme e la cardinalità di qualcosa che noi definiamo mondo in cui quell'insieme si rivela si mostra. Per fare questo per arrivare a questo abbiamo bisogno del teorema di Cantor che ora andiamo a vedere. Che cosa ci dice il teorema di Cantor? Se noi abbiamo un insieme M e indichiamo appunto l'insieme M come M e avremo l'insieme potenza di questo insieme M vale a dire l'insieme delle parti di M. Noi chiamiamo parte dell'insieme M un qualunque sottoinsieme di M. Quindi mi sentirete dire parte e sottoinsieme in modo che un termine possa essere sostituito con l'altro. quindi sia M un insieme sia P di M l'insieme potenza l'insieme dei sottoinsiemi l'insieme delle parti di M. Il teorema di Cantor il nocciolo del teorema la tesi del teorema di Cantor ci dice che la cardinalità dell'insieme potenza di M è maggiore della cardinalità di M. Per indicare la cardinalità abbiamo usato le due stanghette come se fosse un modulo che trovate sempre nei corsi di analisi questo indica il modulo per indicare anche la dimensione di un certo insieme. No, cardinalità come dimensione dell'insieme. Vi ricordo che la cardinalità di un insieme si dice che la cardinalità di due insiemi A e B siano la stessa cardinalità se è possibile avere una funzione B e T va da un insieme all'altro insieme questo stabilisce il concetto di cardinalità questa relazione perché è un po' più addentro delle questioni sa che si tratta di una relazione di equivalenza e quindi gli insiemi sono per così dire il quotiente degli insiemi è suddiviso in classi di equivalenza e ognuna di queste classi di equivalenza è caratterizzata secondo questa relazione di equivalenza da una sua cardinalità detto in parole povere avremo classi di equivalenza di insiemi tali per cui ognuno degli elementi di queste classi di equivalenza ha una certa cardinalità avremo al finito un insieme con cinque elementi e se non cinque pere un insieme con cinque mele questi due insiemi fanno parte per così dire della stessa classi di equivalenza con cardinalità cinque ora per ogni m appartenente per ogni m piccolo appartenente all'insieme m sia s di m quella funzione che ad m mi associerà il singoletto di m quindi quell'insieme costituito dall'unico elemento m quindi avremo per così dire una funzione una funzione che ad ogni elemento m del nostro insieme di partenza m grande assegna quel particolare sotto insieme appartenente all'insieme potenza p di m che è il singoletto costituito dall'unico elemento m per cui questo singoletto appartiene all'insieme potenza quindi in questo caso possiamo dire che la cardinalità di m è minore o uguale alla cardinalità di p di m perché perché l'insieme dei singoletti degli elementi di m è un particolare sotto insieme dell'insieme potenza e quindi la cardinalità di m con cui abbiamo stabilito questa fi s per dire singoletto è sicuramente minore o uguale alla cardinalità di p di m la tesi ecco questo è facile questo è stato semplice da dimostrare ma la tesi del teorema di Cantor è che la cardinalità di m sia strettamente minore della cardinalità dell'insieme potenza di m come lo andiamo a dimostrare questo risultato lo andremo lo andremo a dimostrare supponendo per assurdo che esiste una invece supponiamo per assurdo che esista una funzione biettiva fi che va da n in p di m dove n è un sotto insieme che potrebbe anche coincidere con m quindi supponiamo che ci sia una biezione da n in p di m e questo è perché se questa biezione esistesse per definizione di cardinalità che abbiamo detto due minuti fa per la definizione stessa di cardinalità m e p di m avrebbero la stessa cardinalità cosa comporta cosa comporta avere supposto l'esistenza di questa biezione e qui vi ho fatto un paio di disegnini che possono risultarvi molto utili allora noi abbiamo supposto che ci sia m che ci sia un n che contenuto è un sotto insieme o al limite coincide con m e l'abbiamo chiamato n poi da quest'altra parte avremo l'insieme dei sotto insiemi p di m l'insieme dei sotto insiemi di m ora consideriamo un sotto insieme di n il sotto insieme di n che noi abbiamo indicato con u grande questo è contenuto quindi o è uguale ad n stesso come lo definiamo questo sotto insieme è costituito da quegli elementi m che appartengono ad n tali per cui m qui abbiamo una negazione quindi nego tali per cui m non appartiene a fi di m cioè è costituito da quegli elementi di n la cui immagine attraverso fi non è un elemento allora non è un elemento dell'immagine l'insieme non è un elemento dell'immagine m non è un elemento dell'immagine di m attraverso la biezione fi cerco di essere ancora più chiaro se noi abbiamo un xi appartenente ad m attraverso la biezione fi che va da m all'insieme dei sotto insiemi di m attraverso la biezione fi a xi posso fare corrispondere un sotto insieme vedete qui ho le parentesi graffe questa è una parentesi graffa puntini queste puntini un'altra parentesi graffa quindi a questo elemento xi di m posso far corrispondere attraverso la funzione biettiva fi un sotto insieme di m che quindi rientra come elemento nell'insieme potenza di m un sotto insieme uno dei cui elementi può essere xi stesso quindi vedete da xi passiamo ad un sotto insieme parentesi graffe puntini puntini con altri elementi in cui può esserci xi stesso bene ora però andiamo a considerare quel sotto insieme udn costruito in modo tale che i suoi elementi non soddisfano a questa condizione cioè i cui elementi sono tali per cui la loro immagine tramite la biezione non contiene l'elemento da cui siamo partiti quindi questa è la definizione di u in questi termini ora poiché fi è una biezione quindi questa fi è una biezione quindi quest'u secondo cui abbiamo costruito secondo questa dimensione l'abbiamo costruito quest'u è un sotto insieme di n in particolare un sotto insieme di m quindi essendo un sotto insieme ce lo ritroviamo come elemento vedete l'ho riportato da questa parte ce lo ritroviamo come elemento dell'insieme potenza a quest'u naturalmente grande u grande deve corrispondere un elemento di m quindi esiste un u appartenente ad n perché abbiamo supposto che l'abbiazione sia tra n che può coincidere anche con m tra n e p di m quindi deve corrispondere un u piccolo tali per cui f di u è uguale la corrispondenza di quest'u attraverso l'abbiazione è quel sotto insieme u così definito cosa accade però che se quest'elemento u appartiene ad u allora se u appartiene ad u per definizione di u non appartiene ad u se invece quest'elemento non appartiene ad u per definizione di u appartiene ad u cosa abbiamo è impossibile cioè se noi partiamo dall'esistenza di questa funzione biettiva da n a p di m arriviamo a questa contraddizione la conclusione è che questa funzione biettiva non esiste e quindi la nostra conclusione se esistesse avremmo l'uguaglianza tra la cardinalità di m e la cardinalità di p di m non esiste siccome prima avevamo dimostrato che la cardinalità di m è minore o uguale alla cardinalità di p di m non possono essere uguali e l'abbiamo visto proprio ora quindi la cardinalità di m è minore della cardinalità dell'insieme potenza di m ora cerchiamo di capire che cosa intendiamo quando parliamo di mondo ora si è dato un insieme a naturalmente tutto questo discorso riguarda una certa impostazione dell'ontologia e ho cercato di semplificare e di ridurre al minimo le introduzioni allora sia a un insieme affinché questo insieme ci sia esso deve appartenere ad un mondo quindi cioè deve per così dire presentarsi in un mondo deve essere contato i suoi elementi devono come minimo essere contati in un mondo ok quindi si ha un insieme il mondo è ciò che supporta l'esistenza di A noi possiamo dire che l'insieme A esiste se possiamo dire che appartiene ad un mondo M quindi assimiliamo il concetto di appartenenza insiemistica al concetto di esistenza ma esistenza nel senso ontologico dell'essere non confondete questo con esistenza reale di cui avevamo parlato prima esistenza in senso ontologico le il to on qualcosa è se c'è un qualcosa a cui questo qualcosa di partenza appartiene quindi A appartiene ad M ora diamo una definizione di che cosa intendiamo quindi per questo mondo M diremo questo che se A appartiene al mondo quindi se un certo insieme di enti esiste e quindi è data la sua esistenza dall'appartenenza ad un mondo allora anche l'insieme potenza di A appartiene al mondo cioè stiamo dicendo che anche l'insieme potenza di A esiste quindi se è dato un insieme costituito un certo numero di elementi e questo esiste allora noi diamo come proprietà del mondo il fatto che l'insieme delle parti di A esistono quindi appartengono al mondo questo naturalmente ci mette subito fuori cioè noi questo significa che noi non accettiamo l'ipotesi del nichilismo meriologico le parti sono sottinsiemi sottinsiemi sono delle parti se noi ammettiamo l'esistenza delle parti stiamo ammettendo la esistenza della composizione delle parti tanto per riferirci ad un discorso di tipo meriologico su questo voglio fare un discorso semplice allora qualcuno dice la luna è là e il formaggio è qua come fai a dire che esiste l'oggetto fuso composto di luna e formaggio come fai e io rispondo come fai a dire che non esiste dici che non esiste questo oggetto composto soltanto perché tu o io non riusciamo a percepirlo un esperimento mentale faccio una parentesi riguardo a questo discorso perché la richiede se noi facciamo il seguente esperimento mentale supponete che io abbia 25 neuroni che guardano alla luna 25 neuroni che guardano al formaggio e poi questi neuroni ok ho un occhio sulla luna un occhio sul formaggio ho mezzo occhio sulla luna mezzo neuroni connessioni eccetera sul formaggio dopo si compongono nello stesso cervello questo cervello e questo è un discorso proprio per i più radicali materialisti per convincerli del fatto che non si può dire che non esiste la composizione in questi termini ok quindi no allora se tutto questo si compone in un unico cervello in un cervello questo cervello concepisce quell'oggetto lo vede quell'oggetto che tu dici non esistere ok quindi da un punto di vista ontologico io devo ammettere l'esistenza dell'insieme delle parti di un insieme come esistenza nel mondo dal punto di vista ontologico che poi questo non appare un altro discorso ma dal punto di vista ontologico questa possibilità dell'esistenza non la posso mica togliere c'è bene questo è un discorso per i materialisti più accaniti più esperimento mentale fatto per loro quindi A appartiene ad M se A appartiene ad M l'insieme delle parti di A appartenerebbe ora il teorema che ci accingiamo a dimostrare è semplicissimo e dice che ogni mondo è infinito come facciamo a dirlo semplicemente se noi abbiamo accettato che l'insieme delle parti dell'insieme è ancora appartenente al mondo quindi in questo senso diciamo che esiste allora applichiamo all'insieme delle parti dell'insieme A di partenza lo stesso assioma sul mondo che abbiamo detto prima e quindi anche l'insieme delle parti dell'insieme delle parti appartiene al mondo e così via per il teorema di Cantor abbiamo visto che la cardinalità che la cardinalità dell'insieme potenza è strettamente sempre maggiore della cardinalità dell'insieme A di partenza e questo lo possiamo applicare ancora e ancora quindi avremo che la cardinalità dell'insieme potenza dell'insieme potenza di A è maggiore della cardinalità dell'insieme potenza di A che è maggiore della cardinalità di A non c'è un modo per siccome ora l'operazione di applicazione di insieme potenza fa parte sempre del mondo è per così dire ciò che chiude il mondo quindi l'applicazione dell'operazione di insieme potenza ad un insieme è definita come una operazione di chiusura sul mondo ogni volta che noi applichiamo l'operazione dell'insieme potenza su un insieme del mondo avremo qualcosa un altro insieme che esso stesso appartiene al mondo ma questa chiusura del mondo data dall'operazione dell'insieme potenza sul mondo è una chiusura inaccessibile dall'interno del mondo ora siccome ognuno di questi singoli passaggi lo possiamo contare come minimo avremo che la cardinalità del mondo è la cardinalità dei numeri naturali avremo uno due tre li possiamo contare quindi la cardinalità del mondo è come minimo uguale alla cardinalità dei numeri naturali quando in questo caso parliamo di inaccessibilità alla cardinalità alef zero quando in questo caso parliamo di inaccessibilità alla cardinalità del mondo vogliamo intendere inaccessibilità alla cardinalità del mondo da dentro il mondo da ciò che è disponibile nel mondo cercando di scrivere il più possibile per essere chiaro quindi il minimo della cardinalità di un mondo è alef zero ora è impossibile accedere alla cardinalità di un mondo a partire dalle cardinalità disponibili nel mondo questo per il teorema di Cantor le cardinalità disponibili nel mondo sono le cardinalità degli insiemi che si trovano dentro un mondo a partire da queste cardinalità è impossibile accedere alla cardinalità di quel mondo un mondo è misurabile solo da un cardinale inaccessibile inaccessibile ripeto nel senso che esso è inaccessibile a partire da cardinalità del mondo se la cardinalità di un mondo è inaccessibile a partire da ciò che si trova dentro questo mondo allora capite e qui inizio ora inizio un discorso meno formale ma che vi avviso può essere formalizzato se ce ne sarà il tempo formalizzeremo quanto dirò in questa terza parte del video ma tra un po' di tempo perché la formalizzazione in questo senso richiede dettagli non banali e sostanzialmente quando sto per dire si fonda sul teorema di Cohen del 63 e 64 che riguarda l'indecidibilità dell'ipotesi del continuo su a partire da zeta dei postulati di Zermelo Fenkel punto se dovremo approfondire approfondiremo per ora vi dico questo se la cardinalità del mondo è inaccessibile rispetto alle cardinalità che sono disponibili nel mondo allora ci chiediamo le verità che riguardano il mondo anche esse risultano inaccessibili a partire dalle cardinalità che sono disponibili nel mondo cioè come facciamo noi che siamo dentro il mondo a parlare di una qualche verità che riguarda il mondo se a partire dalle cardinalità disponibili nel mondo non possiamo nemmeno permetterci di contare gli elementi del mondo allora da questo punto di vista possiamo dire che la verità del mondo eccede il mondo no non possiamo dire che la verità del mondo eccede il mondo tutto ciò che di vero si potrebbe dire sul mondo eccede ciò che noi abbiamo a disposizione per dirlo ripeto non perché non abbiamo a disposizione degli infiniti ci sono ma perché questi infiniti sono sempre troppo piccoli rispetto a quella che è la cardinalità del mondo anche se essi sono infiniti quindi la verità del mondo le verità del mondo non eccedono il mondo ma queste verità eccedono le cardinalità che sono a nostra disposizione perché noi siamo sempre abbiamo sempre disponibilità di mondi sempre disponibilità di insiemi con cardinalità sempre inferiori alla cardinalità del mondo questo per il teorema di canto e allora il problema qual è come si rivela una verità come facciamo una verità che riguarda il mondo non la verità se l'acqua bolle a 100 gradi ok l'acqua bolle a 100 gradi alla pressione di un'atmosfera verità sì l'acqua bolle a 100 gradi alla pressione di un'atmosfera se è distillata perché ci sono dei soluti se ci sono dei soluti la cosa non è più vera e così via queste sono verità scientifiche verità particolari quando Badia parla di verità e il caso in cui noi a cui noi ora ci stiamo riferendo parliamo di verità del mondo verità del mondo non di verità particolari queste verità particolari attenzione possono andare a comporre la verità del mondo o possono andare a comporre una delle verità del mondo quindi qui si parla di composizione delle verità o della verità del mondo e confondo apposta il plurale con il singolare attenzione perché fino a questo punto noi non possiamo sapere se c'è la verità o le verità tra l'altro questo qui è un dettaglio il nomignolo di questo canale è primule rossa proprio perché anni fa volevo riferirmi proprio a questo fatto l'infinito non si sa se è plurale o singolare se in ogni caso si deve parlare sempre di infiniti o infinito attenzione perché dire infinito significa contare qualcosa come uno ma questo uno non può essere contato come uno perché se lo contiamo come uno diciamo il tutto esiste c'è l'uno e così via ecco perché c'è un dettaglino questo primule rossa proprio per indicare questa distonia questa dissonanza plurale singolare quando noi parliamo di infinito infiniti ora dicevo come si rivela una verità nel mondo e questo è il punto perché la verità non può essere presentata cioè non possiamo avere un'idea di unitaria della verità questo per tutto quello che abbiamo visto perché non possiamo dire tutto il tutto non esiste non possiamo parlare di una certa cardinalità perché questa cardinalità cede tutte le cardinalità che noi possiamo pensare e quindi per così dire dobbiamo pensare ad una verità del mondo come qualcosa che attraversa il mondo ma è qualcosa che non può essersi presentata al mondo ma se questa verità non si può presentare al mondo cioè non posso avere il libretto dove scrivo ah sì questa è una parte della verità secondo quale regola che non c'è la regola secondo quale relazione che non c'è questa relazione quindi l'unica possibilità per cui la verità si presenta al mondo è il suo presentarsi e non presentarsi una certa forma di contraddizione però ripeto ora non sto formalizzando niente poi li formalizzeremo queste cose qua quindi in una certa un qualcosa che si può pensare come ad una rottura ad una rottura con tutto ciò che è stato presentato fino a quel momento quindi io ho un'idea del mondo ho un catalogo del mondo ho un catalogo del mondo io ho un catalogo del mondo ma c'è un qualcosa che rompe i termini il principio di catalogazione che io ho istituito del mondo questo qualcosa che rompe questa questa catalogazione del mondo è chiamato da Badi evento quindi pensiamo a qualcosa che rompe che rompe la ripetizione pure che rompe la ripetizione del mondo ecco perché è detto un evento questo questa cosa qui ci mette in condizioni di parlare di una o delle verità del mondo quindi affinché si cominci a parlare si inizi a parlare di verità del mondo si deve iniziare a parlare nel contempo di evento come rottura dell'ordine precostituito capite diciamo l'importanza di tutto questo e come tutto questo si lega a tutto quello che abbiamo detto fino ad ora quindi l'evento rivela qualcosa della verità del mondo non ci può rivelare l'intera verità questo è impossibile ma qualcosa che aprite bene le orecchie si può decidere chi lo decide il soggetto attenzione quindi l'evento apre la possibilità di decidere attraverso un processo reale che Badia dice essere di fedeltà all'evento quindi attraverso un processo reale di verità di fedeltà all'evento si può decidere di comporre attraverso l'evento i termini di una verità attraverso l'evento i termini di una verità facciamola semplice con l'amore sono gli esempi che porta lo stesso a Lémbadier due persone si incontrano ora l'incontro può passare come un incontro ordinario ma può succedere qualcosa in cui ai due gli si aprono gli occhi e quell'incontro non è più un incontro ordinario ma può diventare l'incontro dell'amore quindi la verità che ai due si apre è una verità che noi diciamo essere l'amore ora quell'incontro che è l'evento e l'evento è sempre un incontro tra parentesi i filosofi incontrano il maestro questo è l'evento l'evento è sempre un inizio perché nel mondo la verità non è presentata come qualcosa di eterno non può esserlo la verità per chi è nel mondo è sempre un inizio si presenta come un inizio quindi ritorniamo all'amore e i due si incontrano questo incontro non è un incontro per così dire da considerare nell'ordinario degli incontri ma qualcosa apre gli occhi e lo fa essere costituirsi come incontro d'amore in questo caso qui in che cosa consiste la fedeltà beh la fedeltà consiste nel dire mando il messaggino telefono alla ragazza cerco di incontrarla di nuovo vedere se per così dire è realmente quell'incontro possibile considerarlo come elemento di composizione di una verità e come si fa questo cercando di nuovo di incontrare la ragazza e vedere qual è la risposta e così continuare fino a quando comporre diversi termini di questa verità ok c'è l'inizio poi si compone si ricompone e così via naturalmente la verità per così dire abbracciata da quest'incontro che noi diciamo verità d'amore no dell'evento verità d'amore e non è mai una verità totale completa completabile è qualcosa che richiede di comporsi sempre di nuovi elementi l'altro esempio è quello della scienza l'evento Galileo no evento della scienza nascita della scienza moderna evento Galileo Galileo è fulminato diciamo da un'idea una delle idee che fulmino Galileo è che basta non si può parlare nei termini non si può parlare della fisica di ciò che avviene agli oggetti nei termini in cui ne parlava Aristotele questo è il fulmine che colpisce Galileo è un evento è l'inizio di un percorso di verità da cui la scienza poi c'è la politica ecco questi sono i quattro termini in cui per Alain Badiou si livella la politica la cosa importante fino ad ora è questo quindi l'evento che rompe con l'ordinario e stabilisce l'inizio di ciò che potrà essere considerato come verità e ci si mette nella condizione di essere fedeli a questo evento come inizio di una verità dicevo poi c'è la politica come dire chi fa politica chi fa politica anche esso deve essere per così dire deve essere deve essersi incontrato con una verità politica con una deve aver avuto un incontro che riguarda i processi reali della trasformazione politica altrimenti non 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 conosce l'evento come evento politico e quindi si mantiene fedele all'evento che ha conosciuto come verità politica questo non significa fedele non significa semplicemente dire sempre la stessa cosa non significa fedele ad una verità precostituita significa comporre di volta in volta attraverso gli elementi che accadono attraverso quello che succede nel mondo comporre di volta in volta quella che è la propria verità politica naturalmente ci sono ci sono c'è qualcosa che può assomigliare ad un evento e poi non lo è perché non consente non consente l'esistenza di un operatore di fedeltà ad un certo punto se quello a cui tu hai creduto non è una verità non è più possibile comporre attraverso gli elementi del mondo quella che tu avevi ritenuto una verità che non era una verità quindi devi magari anche cambiare radicalmente il contenuto ecco il contenuto dell'evento come verità il contenuto di quello che riteneva essere verità e poi c'è l'arte l'incontro anche l'arte incontra la verità si può incontrare la verità dell'arte naturalmente l'operatore di fedeltà della scienza l'operatore di fedeltà dell'amore l'operatore di fedeltà dell'arte l'operatore di fedeltà della politica sono quattro operatori di fedeltà diversi e tanto per darvi un'idea di che cosa può significare operatori di fedeltà vi dico che nell'essere l'evento l'operatore di fedeltà della logica classica come strumento di fedeltà all'ontologia classica per Alain Badiou era rappresentato dall'implicazione dal concetto di implicazione questo è l'archetipo dell'operatore di fedeltà per Alain Badiou naturalmente in questi quattro settori ognuno ha un suo specifico tipo di operatore di fedeltà che cosa accade a chi decide di essere fedele attraverso un processo reale di composizione della verità del mondo ad un evento quindi che cosa accade per esempio al rivoluzionario che decide di essere fedele all'evento ok alla verità per esempio della lotta di classe che cosa accade e decide di essere fedele a quell'irriducibilità che è la lotta di classe accade che egli non mette più nell'ordinario gli accadimenti non li ordina più secondo ciò che è per così dire la sistemazione statuale sistemazione ordinaria degli eventi egli cerca di comporre gli eventi dal punto di vista di quel particolare evento che è stato per esempio l'inizio della sua lotta di classe questa in questo egli trova la verità del mondo sto parlando di me stesso ora che cosa cambia in uomini che decidono in questo senso di essere fedeli alla verità dell'evento e uomini che non prendono questa decisione ebbene gli uomini che non hanno non sono portati non decidono di essere fedeli all'evento non decidono per la verità semplicemente rinunciano ad una verità del mondo e questi sono quelli che io definisco uomini di creta perché questi uomini si accontentano di essere animali della specie homo sapiens sapiens ecco cos'è l'animale l'animale vivente appartenente alla specie homo sapiens sapiens è un uomo di creta abbiamo dato una definizione abbastanza formale di cretino cioè gli uomini di creta sono quegli uomini che non decidono mai per la verità non si decidono perché 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 non si decidono a soggettivarsi non vogliono essere uomini non vogliono iniziare ad essere uomini continuano ad essere uomini di creta i golem ecco questi sono i golem i golem sono quelli che imboccano il catalogo la parolina dell'ordinario e si muovono in modo automatico cioè secondo i termini stabiliti statualmente cioè secondo i termini stabiliti dall'ordinario non ammettono per sé stessi l'esistenza della o delle verità del mondo a cui loro stessi potrebbero partecipare non sono ammesse ora questo per dire che cosa che per badire il soggetto è raro i processi di soggettivazione sono rari per soggetto non si intende soltanto il soggetto io pacile vincenzo o tu Giovanni Alberico che so che mi stai ascoltando non sono rinunciano ai processi di soggettivazione ora questo è legato a quello che diceva Heidegger per collegarmi appunto a Giovanni certo perché questo sì il sì heideggeriano omogeneo valido per tutti coincide proprio con questo non volersi soggettivare non voler passare non voler passare dall'essere uomini di Creta ad iniziare come uomini quello che io dico uomini ok e questo coincide proprio anche naturalmente con quello che pensa Badiou sulla rarità del soggetto il soggetto per Badiou è raro i processi di soggettivazione sono rari e questo si collega a quello che avevo detto prima il filosofo da questo punto di vista la filosofia non è per tutti perché richiede un particolare processo di soggettivazione che conduce alla fedeltà all'evento che per il filosofo è l'incontro con un maestro meglio ancora l'incontro con le parole di un maestro e quello è l'inizio da lì in poi comincia c'è il percorso del filosofo ma all'interno del mondo e segue la stessa struttura e segue la stessa struttura dei percorsi di verità dello scienziato dell'artista del politico e di chi ama e degli amanti ok alla prochaine fois grazie ancora e tante belle cose